Oggi purtroppo non ho moltissimo tempo e quindi questo video sarà piuttosto breve. Tuttavia, volevo portarvi questa notizia poiché è parecchio importante. Jeffrey Hinton, che è dietro di me, lascia la sua posizione a Google così da poter parlare liberamente dei pericoli della tecnologia che erano intorno all'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere i dettagli dopo la sigla. Jeffrey Hinton, 75 anni, che ho citato in questo video poiché ha settato le fondamenta del deep learning che sta alla base dell'intelligenza artificiale, i quali c'è GPT, lascia Google per potersi sentire libero di parlare di quello che vuole sui pericoli di questa tecnologia. Ovviamente non si sta parlando di scenari tipo Terminator, tipo Skynet, anche perché lui stesso dice che i chatbot non sono più intelligenti di noi, anche se potrebbero diventarlo presto. I pericoli di cui parla sono quelli di attori malevoli che possono utilizzare l'intelligenza artificiale per, ad esempio, incitare la violenza o manipolare addirittura le elezioni. Benissimo, pinguini. Come vi dicevo, sono stato molto breve, ma sicuramente farò un approfondimento quando avrò più tempo. Se questo video vi è piaciuto, fammelo sapere in un commento, lasciate un mi piace e quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Tino.